Un gol nel primo tempo e uno nella ripresa bastano all'Aquila per avere la meglio sull'alba adriatica e restare. Padrona indiscussa dell'eccellenza, il club del capoluogo passa in vantaggio e crea successivamente altre azioni da gol. Tuttavia l'alba riesce a infastidire tatticamente il rosso-blù, ma alla fine i padroni di casa conquistano la settima vittoria consecutiva. L'Aquila in campo con il 4-2-3-1, D'Arra nuovamente preferito a Mantini, in avanti Massetti, Marchioni e Sarrizzu. Dietro a Sciba, l'alba allenata dall'ex rosso-blù Roberto Vagnoni risponde con un 4-3-2-1. Giri e Pantoni sostengono Montano, i bratiani che nel corso del match passeranno alla 3-5-2. I rosso-blu si fanno subito vedere dopo soli due minuti. Sarrizzu trova spazio sulla sinistra e crossa in aria, Sciba in corna ma schiaccia troppo il pallone e Barduagni non ha problemi a far su alla sfera. Al tredicesimo i rosso-blu trovano la rete del vantaggio proprio con il marcatore che ha deciso il match contro l'angolana. Azione allestita dalla sinistra, Marchioni prende palla e scarica per Sarrizzu. Il fendente dell'esterno sardo si insacca all'angolino basso. L'Aquila continua a premere sull'acceleratore al quindicesimo di Arra di testa va vicino al raddoppio ma la sfera si spegne sul fondo. Un minuto dopo di nuovo Sarrizzu che fa partire un mancino violentissimo ma stavolta il numero 19 è meno fortunato. Poi al ventunesimo viene annullato un gol ai rosso-blu. Bella l'azione dei locali con Marchioni che allarga per Sarrizzu, palla in mezzo, Sciba la butta dentro ma la posizione viene valutata irregolare. L'Alba però cresce e si fa vedere al trentaquattresimo con Passamonti che ruba la sfera a Diarrà e va al tiro. Mascolo si oppone. Nella ripresa al decimo Epifani fa entrare Di Norcia e Mantini al posto di Diarrà e Di Marchioni passando al 4-3-3. Quattordicesimo Montani prova a impensierire Mascolo con un tiro dalla distanza ma il pallone termina alto. Episodio particolare, quello del minuto 28. Barduani decide di intervenire su un tiro dalla distanza di Corticchia all'apparenza innocuo. Il portiere si fa male e Vagnoni è costretto a sostituirlo con Porrini. Il neo entrato deve subito raccogliere il pallone in rete perché al trentacinquesimo i rosso-blu raddoppiano. Di Norcia lavora un gran pallone per Sciba, l'ex torresi in corna e c'entra il bersaglio grosso. Finisce qui l'Aquila che sale a 68 punti restando a più 10 dalla Giulianova mentre l'Alba resta ferma a quota. 32 punti. Grazie. Grazie.